Ecco, allora sempre per parlare di cose positive, mi piacerebbe poter fare il referendum per sapere se i nostri cittadini sono favorevoli ai politici che abbiamo su in provincia. Allora io mi faccio una domanda, a mezzo Lombardo, a Madonna di Campiglio, arriva anni fa quando è crollato la strada, vi ricordate? Sono state fatte delle gallerie, arriva e l'hanno fatta in sei mesi, vi ricordate? Mi sbaglio? Sì o no? Sei mesi? A una canna, ma sei mesi, se lei era a due canne, no, ho due mesi. Allora veniamo, mezzo Lombardo c'era il traffico, c'era l'ingorgo eccetera, sono intervenuti i politici della Val di Non, che erano molto potenti, vorrei la favola, hanno fatto una galleria a doppia canna, mi pare che l'è lunga qualche chilometro. Madonna di Campiglio, Madonna di Campiglio non si poteva più passare, fa la galleria, anche lì, per intervento naturalmente dei politici. Allora io mi domando, noi abbiamo avuto in provincia, Malossini, sì o no? Ditemi, è stato presidente della provincia? Sì o no? Benedetti? Dimmi Benedetti, Angeli, Angeli è anche presidente della provincia. Allora io mi domando, ma dico la galleria che si faceva si poteva fare o no? Perché non l'hanno fatta. Allora Benedetti, assessore al turismo, all'industria, tu quel che serve, in certo momento mi risulta, può darsi che mi sbagli, che il voto di Benedetti in giunta fosse determinante. Allora in quel caso cosa avrebbe potuto dire Benedetti? Senti, te la hai, mi ti dà con la mamma, ti fai la galleria però eh? Ah, mi ti dà con la mamma, ti fai la galleria, perché è su in Val di No, con l'impressione, chi fa questa roba, che dica, senti po', te vuoi noti però te mi fai la galleria a mezzo a Lombardo. Allora ieri, anzi l'altro giorno per combinazione, ho dovuto accompagnare uno all'ospedale di Roveretto, perché c'era, avevo una perdita di sangue, l'ho portato in Ottorino. Ditemi cosa ho impiegato da Arco a Roveretto, io ci ho messo 50 minuti, va bene? La coda di ieri, sono andato a Torbole, tutti sapete che ogni tanto vado a Torbole, perché ho una piccola casetta, la giudica è lasciata dalla mia nonna, nel tornare, nel tornare, ho fatto la vecchia strada e sono arrivato a Nago e sono sceso dalla Mazza, la coda era fino al semaforo di Bolognano, non esagero, fino al semaforo di Bolognano. Ma dico, ragazzi, non è possibile, dall'altra parte non ho guardato, ma certamente ci sia stata la cosa, non dico fino a Malcesi, ma fino a non avere un bel colpo. Allora dico, non si va, Giuliani, avete mai sentito un'interrogazione di Giuliani sulla galeria? Voi l'avete sentita? Avete letto Giuliani, interviene? Corretto. E' buon fiolma, fermo, Giovanazzi, Giovanazzi che va a tutti i funerali e Giovanazzi ha detto ai funerali, lui lo vedo sempre, i funerali è sempre presente, porta per le condoglianze, sarà meglio che ce le faga a lui, perché potrebbe anche lui, è stato anche ai lavori pubblici assessore, il nostro Giovanazzi, sì o no? Sì, è vero? Allora, quindi quella galleria lì è indispensabile, c'era chi aveva proposto anche la galleria da Bolognano direttamente, non so quanti chilometri sarebbe stata voi che siete lì, 4 chilometri, ecco, quella di Mezzolombardo mi pare che le 5 e di più, si poteva fare a doppia canna, naturalmente sarà il sorto, non mi ricordo, ma nago per chi li taglia fuori, sarà il terreno di umori chi lo taglia fuori, ma diciamo che forse quella di Bolognano poteva avere una sua giustificazione da parte di questi comuni che sarebbero stati tagliati fuori, forse, ma se potevano fare la galleria di qua, ragazzi, ma chi la fa? La Gallas? Deve essere il Parisi, il Tamanini, cosa che fette noi altri, che quando parliamo ci strapassano? Mi piacerebbe, mi piacerebbe, che ogni cittadino che mi ascolta mandassi una lettera a Giuliani con domandante, scritto, è la galleria, punto di domanda, basta. Mi piacerebbe che ricevesse per esempio, non so, centinaio, duecento lettere al signor Giuliani, come si chiama il nome? Luca. Luca, Luca Giuliani, Arco, penso che consigliere provinciale, e la galleria, punto di domanda. Guardate, ma devo fare cose positive, ma come fai a parlare di cose positive? Io non lo so, se mi date un suggerimento, io parlo anche di cose positive, perché sarei no contento, contentissimo. Alla prossima!